Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Martina e benvenuti in questo nuovo vlogmas! Come state? Spero tutto bene, io sono qua oggi per aprire i regali insieme a voi, vi auguro buone feste, una buona vigilia, vi mando un bacio sia a voi, tutti i vostri cari, la vostra famiglia, mi raccomando fateli i miei pensieri di auguri e niente, iniziamo questo video, apriamo i regali insieme! Allora, inizio con il primo, questa è la busta, wow! Devi dire chi te l'ha regalato però! Allora, io sono follemente innamorata dei pigiami, quindi, aiuto, mi sto ingarbugliando, se voi mi regalate un pigiama io sono contenta! Guardate che meraviglia, poi felpato, bellissimo, immaculato qua, e riprende anche il pigiama qua sotto, i pantaloni, ed è bellissimo raga! Bello, bello! Il secondo pacco, questo, bellissimo, con i cuoricini, vado, guardate! Mamma mia, bella questa spazzola! E' comodissima, mi serviva una spazzola anche da viaggio, poi cos'è un altro? Pigiama! Adoro! Pigiami, 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 guardate che bel colore! Con Tom e Jerry, la mia infanzia, ragazzi! E poi c'è il sotto che è grigio, allora poi c'è il secondo, apriamo, insieme, allora, wow, bellissimo, body nero della Guess, bellissimo! Ok, un altro della Guess, allora, abbiamo una mascherina, penso, adesso ve la faccio vedere, apriamo, la battona, una mascherina così fighissima, con il suo porta mascherina, bella, un regalo bellissimo! Con il coppio, esatto! Poi, qua dentro, vediamo cosa c'è, non vedete? Non c'è dentro la lama! Ah, ho presente, questa è una mantellina per la pioggia, quindi non la sto ad aprire, perché serve ovviamente in baligetta, ed ovviamente da viaggio, quindi la devo tenere così! Questo è un altro, apriamo! Sono l'entusiasta! Ok, pronti? Guardate che bella! Questa è bellissima, penso che la metterò già stasera, e niente, farò il cambio! E rinuncino! Siamo all'ultimo, e ora apro tutto lo schermo! E beh, ci sciacca, vai! Vai! E' enorme ragazzi, cosa sarà? Bello! Sono contenta, fatemi sapere se i regali vi sono piaciuti, noi ci vediamo domani per un prossimo video che apre regali col mio ragazzo, quindi vi mando un bacio, mi raccomando iscrivetevi al mio canale, iscrivetevi su tutti i miei account social, vi auguro buone feste e vi mando ancora un bacione! ciao